Salve, cari e carissimi, buongiorno, ben trovate, ben ritrovate, ben svegliate, buongiorno, insomma, eccomi qua, messaggio del giorno per voi, aspettate, devo mettermi in maniera che posso mischiare queste carte senza che muovo la telecamera, che è un'impresa un po' ardua. Allora, ragazze, come state? Spero bene, spero che tutte le cose vadano come è giusto, che debbano andare a secondo dei vostri desideri, eccoci qua, il nostro consueto appuntamento con il messaggio del giorno per voi, che subito attiviamo e prepariamo, eccoci qua, e niente, avanti tutta, sempre, perché comunque, sapete che in ogni caso bisogna sempre andare avanti, mai guardarsi indietro. Molte persone vivono molto del passato o sperano nel futuro, come un po' tutti, è anche, diciamo, un po' la caratteristica dell'essere umano, e gli sfugge un fattore molto importante che è invece vivere il presente. Cioè, noi dobbiamo imparare a vivere il presente. Perché? Perché il passato è passato e ormai non c'è più niente da fare. Il futuro, non sappiamo mai cosa ci aspetta nel nostro futuro, è un'incognita, e quindi noi proiettati fra passato e futuro, dimentichiamo di viverci il presente, non siamo connessi con il nostro presente. Qua sono uscite due carte, e le prendiamo tutte e due, ecco qua. E questo è molto importante anche per quanto riguarda le situazioni dell'amore. Spesso noi viviamo così, chiusi nel nostro passato, nei ricordi del passato, di quello che è stato, e poi magari speriamo, o che ritorni, o speriamo in un nuovo amore, e ci lasciamo sfuggire le occasioni che ci capitano nel presente, proprio perché siamo, qua sono uscite due carte, e prendiamo anche queste due, perché siamo proiettati in questi due, diciamo, passato e futuro, e ci lasciamo sfuggire il presente. Quindi, concentriamoci sul presente. Detto questo, ragazzi, sapete, sono sempre interattivi i collettivi generali, per cui sempre estrema cautela nell'ascoltarlo, nel, così, magari, prendere delle decisioni, mai, anzi, prendere delle decisioni, con un interattivo collettivo. Se mai, piuttosto, andate a fare un approfondimento, con, appunto, un interattivo, cioè, con un interattivo, con un consulto, quello poi si chiamerebbe consulto personale, dove, appunto, potete avere la certezza che si parli esclusivamente di voi. Se lo volete fare con me, trovate tutte le informazioni relative, a contattarmi. Poi, se non vi riguarda, se non vi riscontrate, non ve lo fate calzare per forza, ma, tanto, vedete, io lo faccio tutti i giorni, quindi, se non sarà oggi, sarà domani. Allora, i Rider White Tarot, abbiamo il, abbiamo l'otto di bastoni. I Tarocchi classici, abbiamo la carta della forza. I Romantic Tarot, abbiamo la nostra bellissima regina di bastoni. Qua voglio mettere in modo che possiate vedere tutto. Ancora, abbiamo qui, il 2 di spade e 5 di denari, dei Tarocchi delle stagioni. E i Tarot, Muccia, sono uscite queste due carte. 5 di spade e la carta del Mago, del Matto. Allora, che cosa c'è qua? Sicuramente c'è una situazione, una sorta di combattimento che voi fate con una persona che evidentemente non si comporta o non si è comportato bene con voi. Allora, qui abbiamo un'ossessione proprio per questa persona, eh? Un'ossessione perché questa situazione è rigenerata. Aspettate, non ho preso queste carte. Oh! Qua abbiamo Tradimento. È la carta degli oracoli dell'amore. Abbiamo Soldi e Lavoro. Allora, questa carta ovviamente ci dà ancora di più l'idea di quello che è successo. Allora, qui è chiaro che comunque ci sono 2-5. 5 di denari, 5 di spade. 5 di spade, ragazzi. È una carta infame. È una carta che ci parla proprio di interruzione. È una carta intanto piena di, come dire, agitazione, infelice per il consultante o la consultante. Perché qua c'è una perdita, c'è una sofferenza, c'è una lotta dove si esce sconfitti. C'è un castigo morale che comunque, anche se noi non abbiamo fatto nulla di male, ci viene a cadere a noi. A noi perché siamo magari più coinvolte, oppure perché magari abbiamo un'energia dove siamo stati più appassionati, più, diciamo, presi da questa situazione, piuttosto di questa persona che mi sembra essere un po'... Qua l'energia del matto. Sapete, quando esce l'energia del matto, a me mi cadono le braccia. Mi cadono le braccia perché, come sapete, il matto è un'energia incostante, incosciente, evanescente, incerta, insicura, di non sapere mai cosa fare, profonda immaturità. Una persona impulsiva, una persona che è sempre nel caos più sfrenato a causa delle proprie indecisioni. Una persona che vuole sempre, così, vivere nuove esperienze. Quindi non è tanto portato per i rapporti stabili. Quindi qua c'è stato a questa situazione. È calata una freddezza, questa persona vi ha ferito, vi ha lasciato, vi ha penalizzato, vi ha proprio fatto del male. Ecco, qua ci sono state, la causa è stata molto l'indecisione, il non sapere cosa fare, e soprattutto anche i dubbi, l'ostilità, i pensieri contraddittori. Oggi si pensava una cosa, domani un'altra. Il fatto che comunque ha trovato in voi una donna di coraggio, di passione, ardimentosa, una donna che è pronta a difendere, ha un'energia, un'intelligenza, una patronanza di sé che la porta sempre ad essere trionfale in tutto ciò che fa. Quindi qua voi siete una regina di bassone, uscite come la forza pure, quindi qua questa persona ha trovato anche in voi tutto ciò che può desiderare un uomo in una donna, anche un'amica, una lealtà, un intuito. Qua invece lui si è un po' goduto la vita, insomma, una persona che ha creato tensioni, ha creato sì un polo di attrazione nei vostri riguardi, è indubbio che lui ce l'abbia. Però qui ci sono state proprio delle situazioni molto pesanti. Poi in tutto questo, questa persona è in un momento di questioni economiche, sue, soldi, lavoro, impegni, responsabilità da tenere a bada, per cui la sua vita sentimentale assume un fattore meno importante. Cioè lui al primo posto mette le sue questioni economiche e familiari, questi impegni di lavoro, questi pochi soldi che ha, che comunque, oppure non ne ha abbastanza per ciò che deve assumersi. Quindi qua c'è questa situazione. Qua c'è stato un tradimento. Vedete questa carta, queste sono le carte che ho fatto io. Vedete con la parola tradimento ho estrapolato altre parole. Quindi con la T, tensione, rivincita, abidità, desiderio, intrigo, malintesi, errore, negazione, tentazione, ostinarsi. Diciamo, queste sono un po' tutte le situazioni che avete vissuto con questa persona. Allora adesso voi mi direte, ok Zahira, e allora? Qual è il consiglio del messaggio del giorno per voi? E intanto, se voi avevate dei dubbi su questa situazione, vi leva ogni dubbio. Questa persona non è una persona adatta a voi. Non è una persona a cui valga la pena che voi ancora magari ci state male. Ora io qua vedo in voi rinascere un coraggio, una situazione, una nuova linfa. Qui avete un'energia, siete sempre una donna passionale. Qua parliamo di una regina di bastoni. Quindi abbiamo a che fare con i segni di fuoco, sagittario, leonariete, portarne l'ascendente. Ma la regina di bastoni è una donna intuitiva, è una maghetta, è una donna che sa come andare avanti. E voi avete trovato finalmente il coraggio di andare avanti con la sola forza della vostra volontà. Quindi qua le carte vi dicono, è una conferma più che un consiglio, vi dicono, sì è come tu hai sempre sospettato. Questa persona è negativa per la tua vita, è negativa per la tua interiorità. Ti ha tolto l'energia, ti ha tolto l'autostima, anche se non del tutto, perché voi siete questa, qua non c'è trippa per gatti con voi. Però vi ha fatto soffrire, quindi avete comunque dei ricordi di sofferenza. Mi ha fatto sentire come non vi siete mai sentite in vita vostra. Denigrata pure. Qua ci sono state tante cose, troppe cose, troppe. Quindi qua il messaggio è lasciate perdere questa persona. Avete l'energia, la forza giusta, siete una donna meravigliosa. Questo non vale nemmeno il piede che qua compare sotto ai vestiti vostro, ok? È una persona vile, perché chi si comporta così è una persona vile, ok? È una persona immatura, infantile. Lasciate perdere, dice, ma perché mi è successa questa cosa? E dovevate capire qualcosa, vi dovete rafforzare e sicuramente vi siete molto rafforzate. E vi dirò di più. Qua io vedo per voi una bella situazione che potrebbe evolversi presto. Ho questa sensazione perché comunque la forza, l'energia, il magnetismo della forza e il fascino indiscutibile della regina di bastoni, qua voi vi state attirando qualcosa di molto bello. Poi mi direte quando succederà. Ragazze, questo è tutto. Io vi ringrazio dell'attenzione. Vi ringrazio sempre dei vostri like, delle vostre iscrizioni. Anzi, continuate a farlo, così mi aiuterete a sostenere il canale. Un abbraccio di luce da voi tutti e appuntamento a domani. Non mancate! Ciao!